Abbiamo condiviso questo modello con la CISL, che è stata protagonista del tavolo di partenariato. Lo ha detto Stefano Caldoro, presidente della Regione Campania, in merito alla ricerca della CISL sull'uso dei fondi strutturali in Campania. Le forze sociali si sono impegnate, ha affermato. Dico da sempre che la macro-regione significa anche finanziare insieme, decidere grandi progetti e lo sviluppo del Sud, anche per arrivare a un'unica autorità di gestione per il mezzogiorno, con un'unica cabina di regia, che decide le strategie tra le opere per accelerare i cambiamenti. Condividiamo questo modello, ha concluso Caldoro. Continuiamo su questa strada.